CQCQ generale, amici CB per un QRX C'è un QCC che dai monti e dal mare Ci invita a cantare così 7351 cordiali amici CB del QTH e tali 88 per l'X greco N dal drago che modula in HI Senza QRM portanti si fa un QSO super X Pre qui, Roger là, passo il mic a chi spetta QTC, QRT, salutori dal drago ECB Per un controllo mi arrivi un Santiago di nove Con un R3 Sei comprensibile al 100% Che i tappai il micro a te 7351 cordiali amici CB del QTH e tali 88 per l'X greco N dal drago che modula in HI Senza QRM portanti si fa un QSO super X Pre qui, Roger là, passo il mic a chi spetta QTC, QRT, salutori dal drago ECB Senza QRM portanti si fa un QSO super X Pre qui, Roger là, passo il mic a chi spetta QTC, QRT, salutori dal drago ECB Che cari Que qua 1964 Qufle Quanto Quanto Quanto